e pura vita ragazzi rieccoci nuovamente su ninja gaiden sigma 2 continuiamo il capitolo 8 cioè iniziamo il capitolo 8 scusate spero vi stia piacendo è un gioco antico ma molto divertente come state vedendo non è neanche facile vabbè che io faccio cagare questo è il prossimo ok sei tu il prossimo ok ok il prossimo oh no ok si cambia personaggio mi salisce i ragazzi martello quello è un martello però anche quelli sono due martelli tu chi sei intanto ok Ok Ma Sti cazzi il martello Mi sa che sarà da ridere il boss E mi sa che potrebbe pestarci a sangue E se non ti vedo farlo Mi stai a cuccia Buono tu Ok Ok non ce l'ha Va bene Sicuramente questo gioco è bravo A far che mi manchi Ryu Ryu sicuramente è tutta un'altra dinamica Quando giochi Però C'è anche vero che è l'abitudine Però Ok Ah non abbiamo provato il limpo di lei Ok dopo lo scopriamo Eh dove dovevo andare Sparisci Ma sicuramente Non ha dormito bene lei oggi Ha le falle abbastanza tirate Vedo la ragazza Eh Vediamo Minchia Ok Il limpo È una roba abbastanza potente Vedo Vieni Ti smonto la vita Vieni qua C'è point fresco Quello era una chest Perfetto La ce n'è un'altra Ok un bel po' di cure Molto bene Che vanno sempre Ben accette Aia Ma che cazzo Ragazzi Allora Palla ancora Ti smonto la vita Beh Sicuramente è interessante Anche quello Cos'è di qua La faccio Io sono salito di qua E mi segnali qui Va bene Giù allora Da giù vengo Però Stai Mamma mia Iniziamo Classica battaglia Per salire Mollami Allora Allora a posto cosa cazzo sta succedendo non vedo niente basta come ancora bravo posto posso scendere grazie questo martello non è proprio stai scherzando ah vediamo dove stiamo andando ma no così almeno con l'invito no sono peggiori quelli piccolini devo dire momentaneamente questi questi epa da più su adesso però giusto però da quanto è il caricatore come un andiamo bionda andiamo bionda no no devi morire bene soffrire devi no 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 aha 7500 tra l'altro costa interessante prendo questi va importantissimo direi perché sono abbastanza certo delle delle sberle che prenderemo lo dico lo dico e succede ce la fai a ucciderlo ok anche lei lo sa fare bene o male perché se no restavamo belli che fermi postaccio da boss mi sa bevo prima quante ore ci metteremo a ucciderlo se quindi si forse sì forse no quizà certo giusto hm ehi che per quanto parecì se mi stai mandando i tuoi amici perché tu da solo non puoi venire No no fermo però Scusami Affanculo La domanda è Questo come lo uccido? Allora Devi schivare però ragazza Ahia Ok Allora dobbiamo restare vicino Devi schivare Vorrei tanto che Bastardo che ne approfitti anche Vorrei tanto che ci fosse un metodo Per puntare lui Perché non c'è Grazie Stai facendo il merda però eh Ma sei proprio quello? Che merda Aia Morto allora E' giunta l'alba Ma questa è tornata qui? Ma avevo gonfiata che sto stata della libertà Avevano un'altra discorta a quanto pare Ah così proprio? A estremi Rachel Ok Siamo passati da Un capitolo di 50 minuti a uno di 17 Vabbè ragazzi Un giorno dura di più Un giorno dura di meno Facciamo così allora Visto che adesso Presumo che torna a usar Ryu Sarà un capitolo intero Quindi questo è durato Stato breve ma intenso Se l'abbiamo fatta Uccidere la prima Abbastanza semplice E quindi vi dedico Pura vida ragazzi Ci vediamo nel prossimo capitolo Di Ninja Gaiden Sigma 2 Ciao gente